Partiamo carichi, con tanta voglia di far bene, di lavorare, di crescere e di mettere su la squadra, che è il primo obiettivo, quindi partiamo carichi e disposti a lavorare. Noi abbiamo costruito una squadra sulla base dell'anno scorso, puntando su giocatori giovani, stranieri giovani, perché chiaramente prendere gli italiani giovani è forte, è anche difficile, però stranieri giovani che pensiamo che hanno una prospettiva e soprattutto che siano giocatori nostri per cominciare a costruire ogni volta di più una squadra più forte. Bello, bello, dai, ricominciare dopo tutti questi mesi di pausa, è stato veramente bello. Adesso oggi è la prima mattina, ci siamo un po' rincontrati, siamo in pochi perché sono via tutti con le altre nazionali e abbiamo cominciato un pochettino a muoverci in campo, un pochettino in sala pesi, poi pomeriggio faremo il vero allenamento, però dai, ci voleva dopo quattro mesi. È molto, molto positivo, si percepisce veramente una professionalità, un'organizzazione, una voglia di crescere e migliorare veramente altissima, quindi sono molto felice di essere qui. Cosa dire, adesso ci concentriamo su quelle che sono le indicazioni fisiche del nostro preparatore, tecniche del nostro allenatore, ancora è presto per l'inizio del campionato, però c'era veramente tanta voglia di iniziare. Grazie.